Ho quasi finito. Ecco, direi che è perfetto. Sembra quasi un Van Gogh. Purtroppo non posseggo queste capacità artistiche. Quella che vedete alle mie spalle è una stampa fotografica su un pannello fonoassorbente in fibra di poliestere ed è un Van Gogh. La stampa è in alta definizione e si possono creare di quadri acustici da appendere alle pareti. È possibile stampare qualsiasi immagine, come ad esempio le foto di famiglia e su richiesta possiamo fornire anche la cornice. È un'alternativa al classico fotoquadro che, oltre ad arredare, riduce l'umore ambientale e favorisce il dialogo tra le persone. Inoltre, se posizionato correttamente nell'ambiente, magari utilizzandone anche più di uno, migliora la resa del vostro impianto audio. Se intendi correggere acusticamente il tuo ambiente o semplicemente migliorarlo, contateci. Ti offriremo una prima consulenza gratuita. Per rimanere aggiornato, iscriviti ai nostri canali. Grazie e buon sound! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!